Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube, nuovo video dedicato a The Walking Dead. Oggi inauguro una nuova tipologia di video che penso che sarà la stessa per tutto il resto di questa undicesima stagione. Mi sono resa conto che purtroppo qui sul canale i video di The Walking Dead, almeno due video, non hanno più lo stesso impatto, nel senso che se non mi incazzo la gente non si diverte, giustamente. E siccome appunto in questo periodo le bestemmie non ce le ho perché mi sto quasi commomento, stanno facendo un lavoro decente dopo tanto tempo, ho deciso che comunque mi manca fare le reaction. E questo episodio, lo 11x13, quando l'ho visto sottotitolato ho visto che c'era un po' di cose insomma, sia da analizzare che anche da reagire, perché comunque ci sarà un po' di casino. Quindi ho deciso che voglio provare questa nuova tipologia, ovvero unire reaction e analisi in un unico video. Quindi come farò? Ve lo spiego molto semplicemente, poi ve lo ribadirò anche dopo, nel caso non sia chiaro. Io adesso guardo l'episodio, sono già qua in trincea appunto, ho già tutto pronto. Nei momenti più salienti, nei dialoghi più interessanti su cui c'è da ragionare, metterò in pausa e dirò la mia opinione in merito appunto al dialogo che ho appena stoppato e che ho appena ascoltato. Invece poi per il resto dell'episodio farò la reaction di quello appunto che succede più di impatto, che mi fa reagire insomma. Quindi appunto l'episodio, cioè il video, i video di The Walking Dead saranno così. Io farò la prova appunto per questi ultimi tre episodi, perché ragazzi tre episodi e la 11b finisce. Vedrò appunto il vostro seguito, se vi piace continuerò così. Se no mi organizzerò poi di conseguenza e magari cercherò un altro metodo, però vi dirò che mi pesa un po' fare due video che poi magari uno viene visto di più, l'altro viene visto di meno. Sinceramente voglio comunque farle comunque le analisi, un po' per i montaggi anche divertenti. Adesso devo appunto anche attrezzarmi, in questo non credo che ce ne saranno. Ma comunque fatemi sapere anche nei commenti se questa nuova tipologia di video vi piace. Quindi direi, bando alle ciance, guardiamoci questo episodio e vediamo un po' come la va. Uh, Lydia! Ah, sta andando al Commonwealth. Eh, purtroppo sì, è una tentazione grande. Uh, e là già mi sa che è ingrifato, eh? Credo di sì. Eh beh, ma la mia bambina è irresistibile. Dai, Elascia però, smicchia a quell'altro come lo guarda. Ok. Dai, che carini! Ma dai, ma spero che combinino. Gioca la tua carta. Ma sì, ma dai, Elascia, su! Ti serve una scorta? Perché? Perché voglio aprirti in due come un melone. Amore, ti puoi annoiare. Che bella questa cosa! Dai, dirgli sì, dirgli sì. Cosa succede? Cos'è? Cos'è? Perché mi interrompo i momenti più belli? Oddio. Eric! Eric! No, no, scherzo. Non so se hai visto che non è stato troppo bene, sto disgraziato. È pieno di sangue. È tutto? Oh mio Dio, poverino, poverino, scusatemi, avrei bisogno di un medico, c'è un medico, c'è un medico, c'è un medico e borlaggio, poverino, si è fatto malissimo. Ma chi è questo? Sta male, aiutatelo, chiamate un medico. No, è morto, non è morto. Non sapevo, non sapevamo chi eri, ma ci dispiace. È morto? Amore, è morto? Mi dispiace. Vabbè, Rip sconosciuto a cavallo che ci ha ricordato un po' Rick. Ha ha ha. Paura, non mentiva. Anche se fosse così, non possiamo andare senza un gruppo che possa combattere. E non lo abbiamo. Che fine ha fatto l'aiutare chi è in difficoltà? L'inferiorità numerica non ti ha mai fermata. Forse avrebbe dovuto. Oh, eh, i metitori insegnano. Diamo a malapena. Aspettate. Anche per queste persone sarà così. Sono quelle che mia madre prendeva di me. E l'ho appoggiata, io non voglio che accada ad altri. Questa scena è molto forte. Prima devo aiutare questa gente. Allora, questo è un nuovo tipo di video, ragazzi, perché ho deciso di fare analisi di action nella stessa, nello stesso video. Quindi per le scene più importanti metterò in pausa. Per quella appunto, come l'inizio, farò solo il momento reaction. Allora, questo dialogo è molto importante perché Maggie comunque ha perso fiducia nelle persone. Dopo quello che è successo poi con i miei editori, ciaone e anche per il fatto che tutti, quasi tutti quelli di Hiltop la stanno mollando per andare al Commonwealth. Perché comunque sono stanchi e non ce la fanno più perché sono la canna del gas. Quindi diciamo che da una parte capisco Maggie che si vuole fare i cazzi suoi, ma dall'altra mi piace tanto che stanno, diciamo, mettendo in risalto l'umanità di Lydia. Perché vi ricordo che Lydia è sempre stata la più umana in mezzo a questi qua. Nella decima era la più umana di tutti. Questa ragazza ha lasciato morire la madre e ha anteposto la gente che l'ha trattata una merda, compreso l'uomo che, mi dispiace dirlo, fino a un certo punto l'ha vista solo come un deterrente e sto parlando di Daryl. Quindi mi piace questa cosa. È un qualcosa su cui riflettere. Sono due diversi punti di vista su cui secondo me c'è molto da pensare. Prima della caduta vivevamo in una fattoria con mio padre. Oddio che filso. Un giorno un gruppo di investitori agricoli ha bussato alla porta per comprare la terra. Mio padre gli ha detto di no. Poi è iniziata una grave siccità. Gli investitori sono tornati e hanno offerto il triplo del valore della fattoria. Eravamo indebitati e disperati, ma sapevano anche che finita la siccità la fattoria sarebbe tornata a produrre e dovevano solo aspettare che cedessimo. Hanno iniziato a lasciare delle casse di foraggio per aiutarci con il bestiame. Mio padre lo lasciava sotto il portico a marcire perché vedessero che lo rifiutavamo. Diceva che eravamo messi alla prova. E sai com'è andata? Ha cominciato a piovere. Noi ci siamo risollevati e gli investitori non ci hanno disturbato mai più. Perché tuo padre non ha preso il foraggio? Avrebbe significato che ne avevamo bisogno e non avrebbero desistito. Le mucche avevano fame. Non ne abbiamo persa nessuna. Siamo rimasti uniti e siamo sopravvissuti. Sì, avete resistito. Resistere è quello che ho dovuto fare per tutta la vita. Amore. Mi avevano detto che si diventa più forti e saggi. Ma non è così. Fa male. Cosa avresti fatto? Avrei chiesto il parere degli altri. Eeeh! Invece di decidere per... Eeeh! Questa è una cosa molto... Eeeh! Pensi che il Commonwealth sia molto meglio? È da pazzi pensarlo. Sì, lo è. Loro non sono stati messi alla prova per dieci anni. Vuoi essere lì quando accadrà? Ah beh, il pericolo siete voi a quanto pare tra un po'. Vorrei solo... Che le cose fossero uguali tutti i giorni. Allora, anche qua c'è molto... Un attimo una cosa da dire. Anche questo è da analizzare, questa scena. Allora, il confronto che hanno avuto Maggie e Lydia in questa scena è molto importante. Perché? Sono due pesi, due misure. Nel senso che Maggie ha capito che il Commonwealth ha qualcosa che non va. Perché comunque la forza militare e quant'altro e la politica interna sono una merda. E ha ragione, perché noi lo sappiamo, perché guardiamo comunque gli episodi di antiprime. E comunque abbiamo capito com'è la situazione, perché leggendo i fumetti, leggendo gli spoiler, capiamo insomma la situazione e abbiamo capito che Maggie ha fiutato che questo Commonwealth non è proprio tutto questo grande idilio che tutti pensano. Ma dall'altra Lydia dice che giustamente la gente non ce la fa più a tirare avanti, a cavarsela, a sopravvivere e basta. Loro vogliono vivere. E il Commonwealth potrebbe essere questa possibilità. Il problema sta sempre alla base. Perché per quanto il Commonwealth sia un bellissimo posto, chi lo governa però, chi lo amministra, è il marcio fino al midollo. Quindi o si va lì ed effettivamente si cambiano le cose, oppure si continua a fare come dice Maggie, cavarsene, sopravvivere e stringere i denti. Cosa che però la gente di Hiltop, tra cui appunto Lydia, che poveretta, ha passato praticamente tutta la vita con la madre, camminando in mezzo ai morti, con addosso la loro pelle e terrorizzando la gente, sopravvivendo alla pena, giustamente non ce la fa più. Semplicemente. Quindi sono due punti di vista che hanno ragione da una parte e dall'altra, però adesso bisogna vedere come andranno le cose, insomma. Ma sono zombie? Ma sono zombie? Eh sì, gli hanno tagliato la gola. Il coltello ha trapassato la protezione del collo. Minchia, una sega elettrica. È Jason, è venerdì 13. Hanno colpito i punti scoperti. Eeeh. Chi è? Aaron? È la voce di Aaron? Sei tu? Eh sì, è la sua voce. Ciao bello. Ciao bello. Tutti noi abbiamo peccato. È vero, è vero. Nessuno. Questo è il filo che ci tiene uniti. E se vi libererete delle etichette superficiali, che lavoro facciamo? Dove viviamo? Quanti soldi possediamo? Se vi libererete di queste cose, vedrete chi è al vostro fianco, come vedete voi stessi all'opposto. Cazzo, Gabriele? Quello che eravamo prima che il mondo cadesse, non può essere quello che saremo in futuro. Grande! Minchia! Dobbiamo sempre ricordare quel filo, perché è quello che ci fa incontrare quello che ci fa perdonare. Mettete da parte il classismo che vi mette in testa il Commonwealth. È quello che ci rende... Noi. Bravo, Gabriele! Bravo! Bravo! Le loro politiche d'ingresso. Ora aiutiamo persone che ne hanno bisogno. Ma sarà proprio così? Sì. Mwah! C'ho i miei dubbi, eh! Loro vogliono solo fare qualcosa di buono con questa... con questa nuova comunità. E il problema è che se vogliono farlo devono eliminare il marcio. E dargli una mano. Che sarebbe una buona idea se mi accompagnassi. Ma davvero? Perché proprio io? Perché, Gabriele? È un gruppo... Ah, è un gruppo... Inche un altro! No, eh! Vi prego, no! Sono nemici sul territorio. Avremo delle truppe di supporto. Noi cambieremo delle vite. Ma è la voce di Simone D'Andrea? Tu. E tu. E persino tu, Jesse. Ma la conosco sta voce. Oggi renderemo il mondo leggermente migliore rispetto a quello di... Ma è Simone D'Andrea? Avevi detto che erano innocui i rifugiati. Non mi sembrano innocui. Boh! Non riesco a capire, ragazzi. Poi c'è satanacchie, eh? Oddio, minchia. Un po' inquietante. La tizia pelata del trailer con una cazzo di falce. Teschi al collo. Un po' inquietante, eh? Madonna, il ragazzo è terrorizzato. Sono po' inquietanti questi, eh? Oh. Oh, oh. È un po' difficile. È quello un po' difficile toglierlo. Pu' un casino togliermi il braccio metallico. Ma è Kyle Reese! Oh, Cristo santo! È Michael Biehn! Vedetevi. È Kyle Reese, il primo Terminator, colo di James Cameron! Ma bellissimo! Prima Robert Patrick, adesso... E adesso Michael Biehn. Prima il Tim Miller, adesso Kyle Reese. Ma volo! Ma ciao! Ma quanto tempo! Non ti vedo le debili planet terror! Ciao, Kyle Reese! Cosa sei? Un altro fanatico di merda? Come il vecchio mondo è che c'è una chiesa. Quindi voi avrete anche le prostitute. Il gioco d'azzardo. Un angolo della città. I fossici si scambiano gli aghi con gli sbandati. Vabbè, non c'ha tutti i torti, eh? Avete anche questo? Ah, boh! Non so, so, bia beh! Giratevi e guardate lì dietro. Cosa c'è? Cosa sono? Sono dei teschi umani! Mio Dio, dove siamo finiti, Aaron? Banditi, assassini, stupratori. Stupratori? E qualche cannibale. E la Madonna! Madonna! Ma che è giustizia della notte? Seduti sulle stesse sedie su cui... Poverino si sta cagando ad osso! Portatelo a casa! Per cui tutti erano lupi travestiti da pecore. Tutti volevano far del male alla mia gente. Allora c'ha ragione! Forse i teschi sono un po' estremi, però... Se hai difeso la tua gente da ste merda, mi sembra bene. Mi sembra buono. Se voi sapete dove abito, ma io non so dove abitate voi. Quanto sarebbe stupido da parte mia lasciarvi andare. Allora, un attimino, perché questa cosa voglio un attimo dirla. Allora, chiaramente questo non sta bene, perché per quanto abbia... Erano tutti assassini stupratori, assassini cannibali che hanno cercato comunque di fare del male alla sua gente. Prendere i teschi e metterli su una mensola è estremo per chiunque, persino per Negan. Però, il ragionamento che sta facendo non è sbagliato. Perché, ok, voi sapete dove vivo io. Perché io non posso sapere dove vivete voi? È chiaro che mi state inculando. È chiaro che come posso fidarvi di voi se mi nascondete tutte queste informazioni? C'è chiaramente qualcosa che non va qua. I miei metri sono sbagliati del Commonwealth, perché per quanto vogliono tutelarsi, tutelarsi, però non vogliono neanche tutelare gli altri. Alla fine sembra quasi che stiano semplicemente prendendo del bestiame. E questo non va bene, assolutamente. Come dico sempre, il posto è bello, è la politica che è sbagliata. Bisogna eliminare il problema dall'interno. La corruzione e il marcio che ci stanno all'interno. E questo qui l'ha capito, secondo me. Ha capito che comunque questi qui... Cioè, questo tizio qui, questo Carson, che chiaramente ce l'ha scritto qui, sono pazzo, perché ovviamente non sta bene quell'uomo lì. Non è che stia aiutando una cosa, ma qui c'è l'inghippo. Qui c'è l'inghippo, ve lo dico io. Billy voleva solo farci uscire allo scoperto, così che i suoi predoni potessero ucciderci tutti. Oh, che stronzo sto Billy. Ha fatto bene. I soldati in quelle foto, se non torniamo, verranno qui e vi uccideranno. o nessuno morirà, ok? Tu salverai te stesso e la tua gente, lasciandoci andare e noi non torneremo mai più. Siete stati bocciati, basta, arrangiatevi. Aaron sta facendo un giusto ragionamento. Ok, abbiamo capito che chiaramente non volete venire, non rifiutate la nostra proposta. Ciao, ce ne andiamo, basta, stop. Che giornata maledizione. Bene, andrete da qui. Non tornerete mai più. No, no, va bene. Oddio! Cazzo, ho sperato a Kyle Lewis. Eh, la madonna, chi cazzo è questo? Che cosa hai fatto? Il mio lavoro. Stavo per lasciarci andare. Te l'avevo detto io che c'era l'inghippo con questo qui. Non c'ero in ostaggio. E bloccate la porta. Tornerò quando sarà sicuro. Eh, te pareva che non c'era l'inghippo. Una settimana e un'ora prima. Ecco, Lance, proprio poco inquietante. Poco inquietante. Sai che ho convinto la Milton sul progetto delle città di Bifolchi in Virginia? Sì. Città di Bifolchi? Ha impiegato molte risorse per me. Ne ho usate alcune per un convoglio pieno di provviste. Per quell'altra cosa. Quale altra cosa? Che cazzo vuole fare questo? Gli esploratori mi hanno detto che è stato svaliggiato. I soldati di guardia tutti morti. Oh signore, questo sta facendo qualcosa sotto banco. Chi è stato? Le tracce portavano a un edificio dove si rintana un gruppo. Eccala! Un altro signore della guerra. I seguaci sono anche religiosi. Celebrano a messa il martedì e la domenica. Carino. E hanno le tue armi adesso. E anche il carico, immagino. Ecco fatto. Ecco perché li ha mandati lì. Non per... Per acumularli. Ma per prendere le armi che pensano che hanno rubato. Ecco fatto. Ecco. Ecco come ragiona il Commonwealth. Almeno questo. Questo qui. Andiamo. Mi serve l'ex agente della CIA che ha sradicato i disobbedienti da qui anni fa. Perfetto. Mi serve un assassino. È colpa mia. Che cazzo vuole fare questo? Questo qui c'ha qualcosa in mente. Ecco perché sta raggruppando più comunità. possibili. Questo vuole fare qualcosa. Vuole fare un colpo di stato o quant'altro. Cosa hai in mente? Solo che quella gente non c'entra niente. Non credo che abbiano rubato loro le armi. Come va con Aaron? Alla grande. Lega subito con le persone e mi rende il lavoro facile. Bene. Conosci il suo amico, il prete? Stokes. Ah. Ok, ok. Andiamo fingendo di stabilire un contatto. E visto che sono religiosi. Abbassano la guardia. Che pezzo di merda. Fa quello che stai fare. E quando dovrò agire e spiegare loro come stanno le cose? Si metteranno in riga. Lo fanno. Ma questo pensa davvero di avere a che fare con degli idioti, eh? Ma dai. Ma fatelo fuori sto Lance, dai. E poi si domandano perché Maggie non vuole andare al Commonwealth. Ma per forza. L'abbiamo trovato già. Ah, ecco. Eh, ma chi ci crederebbe? Non ho appena mentito. Ah, povero Kyle Reese. Minchia, Gabriel. Fermi. Fermi. Ammalettatelo. Minchia, ragazzi, ma tornate a casa. Ma chi cazzo ve lo fa fare di stare in sto posto? Ehi, senza palle. Se avessi trovato quelle armi, non credi... Oh, Cristo, ha ucciso Kyle Reese. No. Ecco, signore della guerra. Scaffale in alto. Proprio al centro. Che te ne pare? No, questo non sta bene. Aaron. Aaron, ti prego, fallo fuori. Fallo fuori, questo non sta bene. Oh, 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 oh. Ehi, ehi, ehi. Che fine hai fatto, eh? E che fai? Ehi, è morto. Tutte quelle chiacchiere, ma sei morto così in fretta. Minchia, non è incazzato come una iena. Oddio, oddio, oddio. No, ma sta male questo. Ma fatelo fuori. Aaron, ti prego, dagli quella roba lì in testa. E poi scappa. Ma scappa via. Ma vi prego. Non guardarmi in quel modo. Era un merdoso animale. E tu no, eh. Noi siamo qui per aiutare le persone. Lo facciamo. È l'altra faccia della medaglia. Una vaffanculo. Il nostro dovere è stanare le minacce. È così che rendiamo il mondo sicuro. Sì, va bene, certo, certo. E ragazzino, ecco. Ecco com'è scappato. No, povero. Vai, Aaron. Minchia, gli ha sfacciato la faccia. Finiti i colpi. Interessante. Che culo. Vieni, fatti sotto. Dai, Aaron. Fallo fuori, sto bastardo. Oddio, che è? Che cosa ci fanno con tutte quelle armi? Eh, chi lo sa? Dove l'hai presa? L'hai data al ragazzo che è arrivato a Hiltop? Non io. Oh. Allora chi è stato? Chi è stato? 12 ore prima durante l'attacco. Ah, ecco. Qui non l'hanno ancora ferito perché sta prendendo il cavallo. Non ti muoveremo. Questa voce? Eccolo qui, il mio Mornigan. Ciao. Mi sei mancato tanto. Che armi hanno? Quanto mi sei mancato? Non lo so. Non lo so. Poverina, lui è sconvolto. Chi è questa? Chi comanda discute con un prete e uno con una palla chiodata al posto del braccio. Merda. Gabriel e Aaron. Li conosci? Non lo sapevano neanche loro. Noi veniamo dal Commonwealth. Non mi sono arrullato per questo. Taci. Tasi. Lui ha già capito. Nicar ha già capito tutta la situazione. Bello. Mi sei mancato così tanto. Sei mancato per poco, ma quel poco è stato terribile. C'è una comunità. Qui vicino. Chiedi di Maggie e nessun'altra. Che bella cosa. Perché ieri e Aaron sono nei guai. Che bella cosa. Allora, questa cosa voglio un attimo fermarmi perché lui che chiede solo di Maggie, solo di lei, dimostra quanto Negan si fidi di questa donna, nonostante lei comunque sicuramente continuerà a cagarla minchia appena si rivedranno, perché vedrete che sarà così. Allora, io ragazzi, da una parte spero di no, che non calchi troppo il cazzo. Però io sono contenta di vedere che comunque Negan sta continuando il suo percorso di redenzione in questo modo, perché se no avrebbe potuto dire vai ad Alexandria, chiedi di Daryl, perché lui comunque non sa che Daryl è al com morto o quant'altro. Invece dice appunto vai da Maggie, vai soltanto da lei. Quindi questa è una cosa bellissima che mi fa davvero volare nell'iperspazio e sperare anche perché. Allora, è uscita la notizia che ci sarà lo spin-off su Maggie e Negan. Quindi la Kang, nel bene o nel male, deve far attirare le loro divergenze. Se no che senso ha sto cazzo di spin-off? Uh, ecco, saranno stati loro forse a prendere Gabriel? È così che rendiamo il mondo sicuro. Ok. Amiga che salva la situa. Il grande eroe che è. Bello. Vai, vai, belezza. Quella signora. Oh, che bello. Che bello, ma mi piace troppo questa cosa. Non possiamo lasciarlo. Se vai là, moriremo tutti. Vieni. Eh, c'ha ragione. C'ha ragione. Negan, c'ha ragione. Adesso Aaron scappa per i cavoli suoi, quindi. Ecco, appunto. Adesso Aaron è scappato, quindi va bene. Ale. Giù uno. Ale. No, 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 no. Basta, basta. Maggie aveva ragione. Maggie aveva ragione. A tutti quelli che le rompono i coglioni. Ecco, lei ha dovuto rifiutare. Lei ha aiuto. Ma ho fatto bene, Cristi Dio. Guarda come agiscono. Vabbè che questo è Lance, eh. Non è tutto il Commonwealth. Micchia. È uno dietro l'altro. Li sta buttando giù tutti. Quisite tutto. Uccidete quelli che non parlano. Ale. Perfetto come risolvono le cose. Maffanculo, va. Commonwealth di merda. Che poi lo so che non è tutto il Commonwealth. Quello che dobbiamo fare ora è restare uniti. Dimenticate di arrendervi o implorare perdono. Brava. Ian è morto. Ma non era il nostro primo leader. Non è stato lui a tenerci uniti così a lungo. Siamo stati noi e lo abbiamo fatto restando uniti come una famiglia. Dai. In questo momento la nostra famiglia è sparsa in tutto l'edificio. Conosciamo questo posto meglio di quegli strumenti. Brava. Ne usciremo vincitori. Brava, questa mi piace. Questo personaggio mi piace molto. Brava, un buon leader. Brava. Brava. Mi piace, signora. È stato un bel discorso. Negan, ti sei fatto la svinfera? Hanno fatto fuori i migliori. Sì, ma dovevano sentirselo dire. Ma tanto adesso arriva la tua Maggie. Dai, tranquillo Negan. Tranquillo, Stellina. Infatti è già arrivata, mi sa. Anche la tua Lydia, è vero? Probabilmente si rivedrà anche con Lydia. Che bello. L'hanno storditi? Uh, bravi. Gli hanno storditi e stanno prendendo le armi. Ma grandissimi. E là sono Elijah, Lydia, Maggie e Aaron, presumo. Hanno preso le armi dei soldati e via. Hanno chiuso una porta e l'episodio credo sia finito. Sì, esatto. Allora, sapevo che l'episodio si chiudeva con un cliffhanger. Allora, un'analisi veloce. Perché comunque ho già analizzato. Non è che era successo tanto per questo. Appunto, in questi episodi, infatti anche The Walking Dead Family, ciao ragazzi, mi hanno detto perché ultimamente ci mandi solo i videoanalisi? Perché ho finito le bestemmie? Più o meno sì ragazzi. Le bestemmie per adesso le ho finite. Perché? Devo ammettere che questa seconda parte, a parte i salti temporali che veramente mi stanno facendo girare i coglioni, non mi stanno dispiacendo. Per adesso non è stato un solo episodio in cui mi sono incazzata. È un solo episodio che mi abbia fatto girare le palle. O che abbia giudicato brutto. C'è stato per esempio l'Unici, ma l'Unici non è stato brutto. È stato lento. È stato un po' così. Il Dolisi è stato un bel episodio. Questo è stato un episodio strano. Perché appunto stiamo conoscendo l'altra faccia del Commonwealth. La faccia di merda di Lance, che a quanto pare ha in mente di fare chissà che cosa, ha mandato delle armi, sta raccogliendo gente probabilmente per fare un colpo di stato. Non lo so ragazzi, sinceramente però è chiaro che vuole spodestare la Milton e queste armi gli servono. Ed è convinto che le abbiano rubati questi. In questo gruppo fa parte anche Negan, che chiaramente dice non abbiamo le armi. Se ti dice che non ce le hanno, non ce le hanno. Calcoliamo che poi sono passati qualche mese, credo, tre mesi circa. Perché l'ho letto negli spoiler del prossimo episodio. Quindi lui è lì con loro da tanto. Quindi in tre mesi, insomma, più quattro. Perché comunque c'è stato anche l'altro mese. Quindi in quattro mesi diciamo che le cose, le imbranchi di più secondo me è passato. Anche perché tra un po' dovrebbe essere cifre sforba dei sei mesi. Quindi secondo me cinque o sei mesi, anzi di più, sono anche passati. Diciamo che la fiducia, insomma, te la conquisti. Insomma, arrivi comunque a fidarti anche di queste persone con cui è passato tutto questo tempo. Quindi di conseguenza c'è un po' un casino. Adesso vedremo un po' come si risolverà la cosa nel 14. Io l'ho già visto, ma da una settimana mi sono già dimenticata tutto. È stato un episodio interessante. Strano, interessante, ma questi salti temporali si potevano evitare. Perché hanno veramente cagato la minchia. Perché adesso devono andare di fretta. Perché hanno perso nove episodi con sti cazzo di miei editori. Quindi appunto di conseguenza adesso devono andare di fretta. E quindi giocano con la time skip. Bene, i Sophie Wise non vi hanno insegnato un cazzo. Perché anche loro lo facevano e hanno sbagliato tutto. Comunque va bene. Cosa possiamo fare? Possiamo solo darci le martellate e sopportare. Ragazzi, io spero che questa nuova tipologia di video dedicata a The Walking Dead vi piaccia. Adesso metterò tutto insieme. Analizzerò le parti più interessanti. Quindi mettendo in pausa il video e tutto come avete visto che ho fatto oggi. E poi farò le reaction per i momenti più salienti. In descrizione trovate tutti i miei social. Instagram, dove tengo sempre aggiornati. Waywayful, TikTok. E soprattutto trovate le pagine Facebook dedicate a The Walking Dead, Kelly Italia e The Walking Dead Family. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdervi nuovi video. Ragazzi, d'ora in poi penso che i video di The Walking Dead saranno sempre così. Anche perché mi è molto più leggero farli. Ragazzi, vi mando un grande bacione. E noi ci rivediamo in settimana con i nuovi video. E settimana prossima per un nuovo video dedicato a The Walking Dead. Ciao a tutti. Fatelo fuori però sto Toby, eh. Fatelo fuori perché uno che si beve... Che schifo è con sto dito in bocca? Che cazzo fai? E' zozzone! Comunque sono andata a controllare la voce del bastardo col ditino. Non era Francesco Burcan, era Simone D'Andrea. Avevo ragione, era Simone D'Andrea. Perché? Perché hanno messo uno dei miei doppiatori dell'infanzia a doppiare quella merda? Vi odio adattatori, vi odio.